Ciao a tutti, io sono Shadow e oggi siamo in una nuova serie ovvero gli esperimenti su minecraft. Si è bloccato già. Ciao a tutti, io sono Shadow e oggi siamo in una nuova serie in cui faremo dei test sono adesso in creativa anche se no l'esperimento finisce male. Qui ho messo in teca delle cose strane su minecraft tipo la mucca a fungo, zombie, pigmen o questo. L'esperimento è, può esistere un player con 100 creeper che esplodono, cioè non senza niente ovviamente, perché ho il materiale qua dove sta, eccolo qua. Posso queste cose qua intanto, poso pure il camice che è un po' pesante, prendo l'armatura con prezioni al massimo e le mele d'oro. Questo è per primo esperimento. Si è segnata, eccolo. Ecco, infatti l'esperimento è 100 creeper versus player. Siamo tutti pronti? Sì, possiamo iniziare. Non guardarmi manco troppo l'intro. Uscire. Sopravvivenza. E vai! Torniamo tra poco. 3, 2, 1 e 1. Perfetto ragazzi, li ho rimessi tutti, che è 100. Stiamo a dire che il disastro che hanno fatto sotto. Cioè, guardate che disastro. Tocchiamo tutto. Tocchiamo tutto quello delle cose prima via. Allora, l'armatura c'è. Mela d'oro c'è. Siamo pronti? 3, 2, 1. Abbiamo fatto il test ed è il risultato positivo. Con protezione 4. Una mela d'oro incantata. dobbiamo resistere a 100 creeper in una gabbia che salta in aria. Che bel test. Queste cose però come ne esco io da qua? non ne ho idea. Quindi ho sbagliato. Se il video è piaciuto lasciate o mi piace altrimenti no. No. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Grazie a tutti